Uscita dal liceo, mi appassionava il mondo del diritto e della giustizia, ma avevo grandi incertezze sul percorso da seguire per raggiungere in primis l'obiettivo di diventare un giurista. L'obiettivo principale del corso è quello di far acquisire allo studente una cultura giuridica di respiro internazionale che renda lo studente capace di conoscere e aggiornare il sapere giuridico, ma anche e soprattutto di approcciarsi a tale sapere elaborandone e gestendone i profili concretamente operativi. Non appena ho cominciato a frequentare il corso di laurea in giurisprudenza, ho percepito di aver effettuato la scelta giusta. Fin dall'inizio ho avuto la possibilità di studiare in un contesto di estrema serenità e professionalità dove docenti fortemente preparati e propensi al dialogo si impegnano per farci acquisire sia una solida preparazione teorica, sia gli strumenti operativi per impiegare le nozioni apprese nella concreta esperienza applicativa del diritto. Più nello specifico, lo studente potrà mettere in pratica la capacità di redigere atti giuridici scritti, di impostare argomentazioni giuridiche persuasive, di elaborare simulazioni processuali efficaci. Il corso di laurea si struttura in tre programmi di studio, il percorso forense, il percorso giuridico-economico e il percorso internazionale. Allo scopo di agevolare e accelerare l'inserimento dei nostri laureati nel mondo del lavoro, il corso prevede lo svolgimento di un tirocinio curriculare, il cui contenuto dovrà essere complementare all'elaborazione della tesi di laurea e le cui attività dovranno essere effettuate presso enti ospitanti. Tutti i percorsi contemplano poi l'organizzazione di laboratori, di scritture, argomentazione giuridica e di simulazione processuale. Ma quel che davvero differisce l'Umsa dalle altre università è che il progetto formativo del corso si incentra realmente sul primato della persona. Gli sbocchi lavorativi che il corso di laurea in giurisprudenza offre sono innumerevoli. Si va infatti dalle professioni giuridiche tradizionali, quali magistratura, avvocatura, notariato, all'inserimento nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento ai settori della giustizia e della sicurezza, ma anche alla possibilità di assumere incarichi direttivi presso grandi imprese private o enti pubblici economici, così come in istituzioni internazionali. Il mio sogno è quello di diventare un magistrato in ambito penalistico e sono sicura che con la serietà, le competenze e il senso di responsabilità che questo corso di laurea mi trasmette quotidianamente, riuscirò a realizzarlo. Grazie a tutti.